Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora mi avete fatto un paio di domande nei commenti E una domanda è quella che diciamo si è retta più degli altri Si è retta No diciamo che mi avete fatto in tanti insomma Ed è come funzionano i cavi della Logistic Pipe E oggi infatti voglio spiegarvi questo Infatti andiamo a prendere un controller Se ce l'abbiamo perfetto Avremo bisogno dei cable Diversi tipi di cable ok Quindi in questo caso prenderemo un dance Avremo un paio di dance Prendiamo questi smart Prendiamo questi covered Prendiamo i... beh le ancora non servono Perché vi ho spiegato come funzionano Prendiamoci che cosa questi qui Ok questi cable normali Perfetto Andiamo quindi a vedere come è funzionato quanto E vi spiegherò cosa e come vanno utilizzati Perché sei spento? Si spiegherò un po' forse Forse pioggia Non lo so Comunque Ma sono ragazzi che questo è il nostro cuore Mi raccomando Questo qui come richiedete qui è il nostro aim controller È il nostro cuore dell'upload Quindi se non lo fate non potete far partire tutto Comunque potete far partire qualche cosa Ma per gestire meglio l'app Avete bisogno per forza di qualcosa Per farlo funzionare Ho bisogno di RF Quindi ho bisogno di una cella In questo caso E io direi Facciamoci una cella piccolina Tipo questa per esempio Molto a caso E poi la rendiamo tipo carina Così 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 Non questa Ma questa Ok La devo trovare Eccola qui Guardate devo farmi Questa qua in Ok Questo qui insomma Ok Ehi Ma è edizione a me che sbaglio sempre Ok Una cella Abbiamo bisogno di energia Così adesso useremo i fotovoltaic E abbiamo bisogno di un energy acceptator Ok Mi raccomando Questo è importante Perché se no l'energia non viene trasferita dentro l'upload Si fa in questo modo Molto semplice Tranne per il fatto che non abbiamo un altro quarzo Vabbè A quelli ormai sono Due dubbi esistenziali Non avremo mai del quarzo Bello E Allora Vediamo un po' quarzo Ehm Prendiamone Quattro Ok andiamo a cuocerlo E Allora Come stavo dicendo quindi Quella è la parte centrale Ha bisogno di energia In questo caso Le la daremo tramite Ehm Dei Padelli fotovoltaici Attaccate a una cella Ehm Però Ehm Sarebbe più indispensabile Fare un'energia Che possa durare Per un bel po' di tempo Perché giustamente Ehm Ne abbiamo sempre bisogno Attaccheremo una Ledstone energy cell qui Metteremo dei solar panel qui Ehm Che automaticamente Danno energia Favranno passare di qui l'energia Ora impostandola In questo modo Ok E di qui Passeranno qui E si inizierà ad accendere Come vedete adesso Continua al massimo Di 16.000 RF Quindi Come vedete Questi qua Che comunque Hanno un'efficienza Abbastanza alta Non avranno problemi A dareci energia Senza Senza problemi Sennò ci daranno energia Prendiamoci anche qualche conduit Sennò che potrebbe essere utile Ehm Non questo Facciamo questo Ok Perfetto Ehm Ah giustamente Ok Perfetto Ok Quindi avremo energia E qui arriverà tutto tranquillamente Senza problemi Ottimo Ok Allora adesso Cosa dobbiamo fare ragazzi Per poter Ehm Farvi vedere un paio di cose Allora Prima di tutto Una cosa importantissima Prendiamoci Dei cable normali Ok Allora Un cavo di questo E' differente da Ehm Per esempio Un cavo di questo Anzi Vi faccio vedere in ordine Ma facciamo prima Da un cavo di questo E o da un cavo di questo Guardate Guardate la dimensione Ora faccio Ve le metto così Tipo in ordine Perfetto Qual è la loro differenza Sostanzialmente Ehm Questo Porta Un solo canale Questo Ne porta La bellezza di 8 E questo Ne porta 32 Ora Questi sono i canali Per farlo da semplice I canali sono Dei collegamenti Che partono dal nostro controller E Arrivano A qualsiasi macchinario Abbiamo bisogno di un collegamento In questo caso Avendo tanti bus Ovvero Import Export Storage E tutte quelle cose Ehm Quando metteremo Un bus Attaccato A un macchinario E attaccheremo Un cavo Gli daremo Un collegamento Ora questo collegamento Deve passare Attraverso dei cavi E poi arrivare Al nostro controller Quindi cosa succede Se mettessimo tutti i cavi Questi qui Questi normali Attaccati a un controller Quindi soltanto Qui in questo caso Ok così Facciamo in questo modo Qua adesso mettiamo Ehm Un macchinario Due macchinari Tre macchinari Con tre bus Bene Il nostro Impianto Capirà solamente Che uno di questo Ehm E' attivo Quindi solo un bus Si attaccherà Mentre gli altri no Perché sostanzialmente Mandiamo soltanto un canale Da dentro Ehm Il controller Al nostro bus Quindi per poter risolvere Questo problema Semplicemente si usano Vari metodi Il metodo più semplice E' quello che uso io anche E' mettere dappertutto Questi cavi Ovvero questi Smart Che così porteranno Otto Ehm Canali Ok mi raccomando Una cosa semplice Per capire se i canali Arrivano oppure no E' semplicemente Fare in questo modo Metterci dei cavi Staccati così Ora possiamo metterci anche Se vogliamo un ancora Per dividere questi cavi E vedremo che Ehm Un macchinario Messo di qui E' un'altra macchinario Messo di qui Per esempio Possiamo metterci L'interface Che abbiamo Forse vediamo un po' Interface Ehm No Però potrò metterci Che ne so Ehm Qualcosa Abbiamo dei bus No abbiamo dei bus Import Nemmeno Import Nexport Qualsiasi macchinario Vada bene Ehm Porterà un collegamento Passerà di qui E cosa farà Se vedremo una lignetta Ora è meglio se ve lo mostro Mi sa che forse Rendo meglio l'idea Tanto abbiamo comunque I nostri piccoli autocrafting Quindi perché no Possiamo farci un paio di cosette Ehm Allora mettiamoci Drive per esempio No Ehm Facciamo certamente L'interface O l'interface Oppure poter usare Qualcos'altro Ehm Ah una cosa importantissima Anche prima di partire Con i canali Questo qui Molecola Assembler Non usa canali Nemmeno lo fa Il crafting storage Mentre Interface Ehm la maggior parte Dei bus Quindi import Export Tutti gli altri bus Usano un canale Quindi mi raccomando E' importantissima questa cosa Perché Ehm Non tutti Usano un canale Per funzionare Altri semplicemente Prendono dall'app E dell'energia Perché I cavi dell'app Oltre a portare Un collegamento Portano anche D'energia Ai vari macchinani Infatti come vedete Adesso qui Il nostro inscriber Funziona Perché c'è D'energia Che arriva a lui Complicemente così Ok Ehm Facciamoci Che cosa ragazzi Facciamoci Due processor Esattamente Due di questi ingegneri E ci facciamo Un drive Ok Facciamoci un drive In questo modo Perfetto Ci mettiamo Un Ehm Un k storage Se riusciamo Ok In questo modo Quindi facciamoci Che ne so Un logic Se ce l'abbiamo Ce l'abbiamo già un logic Ci facciamo uno di questo Ehm Giustamente mi serve Del quarzo E vabbè Giustamente Ok Cinque Vabbè Sì Quelli che sono insomma Per fare il quartz Cable Ok Più che cable Servono I quartz glass Ok Quindi Ci facciamo un drive Ci facciamo un paio Di Celle Quelle da un k E mi servirebbe Del vetro Ok Andiamo a farci un attimo Un paio di cosette Peccato che il nostro Wireless Non funzioni Per il craftaggio Nel senso che non c'è Un wireless Crafter Perché se no sarebbe stato Molto più carino Molto più bello da fare Sinceramente Ok Allora La mettiamo qui Facciamoci una cella da un k Ottimo E siamo a posto Ok Quindi adesso cosa succederà Quando andremo a inserire Questo drive adesso Vedrete che ci sarà Un cambiamento Ok Ora iniziamo a inserirlo Per il momento Facciamolo qui Ok Lompiamo questo cavo E rompiamo anche questi Per questo Ok Come vedete Arriva un canale Canale 1 Qui Ora ci dirà Ora non ce lo dice Però se vedete la Waila È bugata Perché di su è bugata La Waila Con questi cavi Ci dirà che abbiamo Un collegamento Qui Guardate Bam Un collegamento E arriva qui Ora in questo caso Se ne facessimo In questo modo Vedremo comunque Che arriva sempre Un collegamento Perfetto Vedete qui Tutto a posto Però se Unissimo Questi cosi In due Così E ci mettessimo Magari che ne so Un Un qualsiasi cosa Diverso Qui come Come macchinario Invece del drive Avremo problemi Che sostanzialmente Avremo due macchinari Che sono sulla stessa fila Ok Quindi sono in fila Fanno portare Un collegamento Qui Ma poi si bloccano Perché sostanzialmente Non sanno poi Come dividerlo Quindi mi raccomando Dovete fare attenzione Perché questi Grandissimi cavi Sono fatti proprio Per fare Vari tipologi Di macchinari Vari tipologi Anche di Strutture gigantesche Come ad esempio Le nostre farm Richiederanno I dance cable Quelli del 32 Perché sostanzialmente Uno da 8 Non lo regge Perché Passano molti cavi Sotto casa mia E non avendo Abbastanza Channel Non si attivano Tutti i land crafting Ora Vi faccio vedere Nel caso in cui Non si attiva i crafting Per chi magari Si è perso Qualche puttata Della Ulyssicraft E possiamo anche Rompere tutto Tranquillamente Portatelo a casa Quindi questo Era molto semplicemente Una spiegazione Per quanto Revolta l'applicat Perché me l'avete chiesta E giustamente Volevo un po' Chiarire le idee Per chi Magari Voleva Voleva un po' Capire tutto Quanto Vedete Qui Abbiamo Un bus Come vedete Nella guaria Ci dice Device missing channel Perché Missing channel Perché sostanzialmente La nostra zona È piena Come vedete Questo qui Adesso voi Dite Capisco se Non l'avete compresa All'inizio Anche perché Giustamente Non è così semplice Rispetto All'upload 1 Che Magari Voi siete più Abituati a usare E anche io Ho avuto problemi A capirlo all'inizio Però tranquilli Ragazzi Che Dopo un paio Di pratico Dopo Un paio Di cose Comunque Se non vi funziona Provate Tipo a smontare Rimontare Fate attenzione Che tutto vada a posto Capirete come funziona Quindi Don't worry Be happy E non preoccupatevi Per questo episodio Di Riscraft è tutto Ci vediamo nel prossimo video Come sempre Se volete altri episodi così Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Ricordatevi c'è una pagina Facebook E anzi C'è anche un profilo Facebook Pubblico Dove potete scrivermi E dove potete leggere Un paio di sforzate Che scrivo E vi lascio comunque Il link in descrizione E ci vediamo nel prossimo video Come sempre Likeate Di cattiveria proprio E al prossimo video Ciao ragazzi